In un deposito di materiale ferroso sono stati trovati 1.575 kg di rame rubato. Il proprietario del deposito, un piacentino di 54 anni, è stato denunciato per ricettazione. È successo ieri nel corso dell'action day contro i furti di rame, una giornata che ha visto impegnate le forze dell'ordine nel contrastare questo fenomeno. Sono stati controllati complessivamente 35 tire e 237 persone. È verosimilmente materiale rubato visto che il proprietario non ci ha detto da chi proveniva e come mai si trovava in quella vita.